Qui all'Università Yulm piace molto il termine avventura, proprio nel suo significato più etimologico, di quello che sta per accadere, di quello che ancora deve avvenire. I nostri talenti, tutti i giovani eleve che fanno parte delle nostre classi, sono parte di questa esperienza, di quello che deve ancora avvenire. E di fatti questo film, L'albero segreto, è parte e porzione di un'esperienza, di un laboratorio di idee, di un atelier esperienziale che deve portare i nostri studenti dentro il mondo, dentro l'esperienza concreta del fare e del lavorare attraverso le immagini. La mostra, organizzata con l'amico Massimo De Giuseppe, in qualche modo aveva bisogno di un suo prolungamento, è diventata così un ipertesto. A partire dall'allestimento si è così creata la base per un documentario, che attraverso un viaggio in tre stati, il Chiapas, Tabasco e Oaxaca, ci ha permesso di conoscere una realtà simbolica, mitologica, che proprio reca l'immagine più forte del cacao. Quella che non è solamente relativa alla sua parte di essere alimento, di essere cibo, ma qualcosa che invece ci parla del senso più profondo della genesi, dell'origine, non solo dei messicani, ma di tutti noi. Abbiamo così costruito un ponte non troppo sospeso tra culture, attraverso sciamani, abbiamo fatto dei viaggi attraverso medicine tradizionali, ponti, sorgenti, cave, abbiamo cercato in qualche modo di conoscere geografie totalmente estranee alla nostra per poter riuscire a costruire un immaginario che a noi è totalmente strano. Con la partecipazione attiva di quattro studentese della laurea magistrale in televisione, cinema e new media, Virna Beltrami, Barbara Martire, Francesca Trovato e Margherita Frerì, abbiamo così costruito una sorta di ponte, una nuova esperienza per riuscire a dare anche attraverso questa prova del documentario un ulteriore senso al cacao. Per cui quello che vedrete nella mostra non avrà fine perché continuerà attraverso qualcosa che poi speriamo di portare sul grande schermo.